Oh, ma chi è? Ma che donazione è? Dani, un'altra donazione, il cuore, ma che cazzo di donazione era? Fammi un po' vedere, un altro cappello coi baffi, stanno a fare il panico, si chiama focus sull'amore, sembra una specie di occhiale col cuore, l'hai visto? Sì, va bene, sì, ma basta, non so pieno, non so più.